Uniti nella preghiera 28 aprile 2020, lettura sempre cursiva, ci colleghiamo ovviamente al Vangelo di ieri, Giovanni al capitolo 6, i versetti 30 e 35 che comunque sempre giù nei commenti io vi posto. Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Se ho già, pensa il maestro, moltiplicato i panni e i pesci, voi avete ragionato sempre solo con la vostra gola, cioè nel senso vi siete saziati, quali altri segni io devo fare? Perché voi crediate, perché il credere non è assolutamente il segno di una dimostrazione e in questo caso materiale, ma il credere è un'adesione ad una dimensione che è più volitiva, oserei dire più spirituale. E la gente fa domande e lui risponde e allora ritorna all'antichità, come Mosè vi ha dato il pane dal cielo, così il padre mio vi dà oggi il pane. Eh sì, loro pensano ci ha dato il pane, ma in realtà questo pane che discese dal cielo nell'antichità è stato proprio il segno dell'elezione, il segno di quel legame scindibile tra il popolo eletto e l'unico Dio. E oltre questo però tu che cosa fai? Dacci ancora dell'altro pane, la gente gli dice, ma perché loro pensano sempre a quel pane che nutre il corpo, questo pane che con costanza ha aiutato nel pellegrinaggio il popolo errante, così loro vogliono di nuovo questo pane. Ma in realtà il maestro parla di tutt'altro pane. Ad ultimo il maestro dirà, io sono il pane, chi viene a me, chi crede a me non avrà neppure più sete. Io sono il pane, non è semplicemente catalizzare l'attenzione su un uomo esemplare, natura umana, natura divina, che si dovrà sacrificare per il bene del mondo, per la salvezza di tutti. Fame e sete diventa non la maniera di saziarci, ma semplicemente la maniera di salvarci. Pregare per la salvezza delle persone malate, che è già tantissimo perché se noi abbiamo affetto e se noi ci fidiamo e ci affidiamo a Dio, pregare significa il nostro spirito che parla al suo spirito, ma significa accettare il sacrificio di Cristo e accettare anche il nostro sacrificio. Come anche invocare Dio in ogni situazione, da quella che può avvolgere il positivo e quella che drammaticamente avrà un altro finale, che ovviamente non sto qui certo a dire perché ha una trattazione ben diversa. Io sono il pane significa io sono quel Dio che ama talmente tanto i suoi figli da donarvi il figlio onigenito e nel figlio ritrovare la salvezza. Nutritevi di questo pane. Grazie. Grazie.